Vittoria pesante in chiave salvezza per la Frentanea che non lascia scampo sul proprio rettangolo anche al Riccia costretta a cedere le armi ed uscire sconfitto dal comunale per 3 a 0. Gara tatticamente perfetta della squadra di Mr. Tanca che ha preparato il confronto alla vigilia a puntino per poter portare a casa altri tre punti importanti in chiave salvezza. Dopo pochi giri di lancette questa conclusione di Ruggero che cercia accompagna con la punta delle dita sul fondo nasce il gol poco più tardi dopo questa conclusione da parte di De Vita che va a scaldare le mani annunziate al minuto numero 11 nasce il gol il cross è perfetto di De Vita Valente anticipa tutti compreso il portiere annunziato e va a depositare in gol il suo primo sigillo stagionale Valente un giocatore proprio serrano vantaggio della Frentanea al minuto numero 11 vantaggio che viene subito raddoppiato e replicato al minuto numero 15 con questo cross da parte di Tarantino che De Vita accompagna in fondo al sacco e secondo sigillo per i pugliesi nel giro di un quarto d'ora prova a scuotersi l'Olimpia Riccia e cercare subito il gol per riprendere la gareggiata il colpo di testa svettato da Cercio e da parte di Ruggero con l'estremo numero uno della Frentanea che compie il miracolo prova ancora Riccia con Moffa che trova la traversa di Lino poi la seconda conclusione di Delzingaro è facilmente parata dall'estremo difensore di casa ancora Riccia che chiude in avanti la prima frazione di gioco qui il tentativo di Delzingaro che mette in mezzo per Ruggero che non arriva all'appuntamento con il gol. Con le immagini montate da Alessandro Ardella siamo nella ripresa tutti aspettano il Riccia che nella seconda parte di gara dovrebbe offrire il meglio invece troveranno soltanto la Frentanea due giri di lancette De Vita fila via in contropiede si fa 50 metri di campo Rivenera di rigore e mette su un pianto d'argento il pallone per De Nicola che deve solo accompagnare in rete il Tris e la partita che si va a chiudere dopo due giri di lancette passano altri due minuti e la Frentanea è l'occasione del poker con Cacchione a tu per tu con l'estremo Nunziata che bravissimo a chiudergli lo specchio della porta e a deviare la sfera in calcio d'angolo è una Frentanea che sulle ripartenze mette in difficoltà ancora di più il Riccia qui De Vita con il sinistro in corsa non trova lo specchio della porta al minuto numero 13 ventiquattresimo ancora Frentanea con Tarantino che imbecca in profondità libero da poco in campo ancora palla per Tarantino la girata che con Nunziata che con il piede destro va a negare la gioia del gol del quarto gol ai pugliesi la Riccia prova a scuotersi con Moffa la sua girata con Cercio che si fa trovare pronto al trentasettesimo il tiro di Moffa dal limite e poi nel finale di gara sull'angolo disegnato da Di Lallo la conclusione ancora di Moffa con un tiro cross che si stampa sulla parte alta della traversa e rientra incredibilmente sul rettangolo di gioco vince con 3 a 0 la Frentanea che raggiunge una zona più tranquilla in gradatoria esce sconfitto il Riccia dal rettangolo pugliese